È piemontese di nascita, Biella, 6 ottobre 1924, recita la sua carta d'identità, ma da ieri è cittadino onorario di Gualdo Tadino. Remo Bonomi, 93 anni, legato alla città gualdese da una moglie, Marisa Pucci, originaria di questa terra, ha ricevuto ieri dal sindaco Massimiliano Presciutti, per conto dell'intero consiglio comunale, la cittadinanza onoraria di Gualdo Tadino. Presenti per l'occasione l'onorevole Walter Verini, gli assessori Venturi e Pasquarelli, i consiglieri di maggioranza Passeri Carlotti Allegrucci e quelli di minoranza Morroni, Fofi e Castellani, oltre alle forze dell'ordine militari. Le motivazioni di questa onoreficenza sono state lette in sala consigliare. Sposato con Pucci Marisa, di origine gualdese, ha sempre considerato Gualdo Tadino come la sua seconda casa. Sopravvissuto al campo di concentramento di Mauthausen, ha contribuito in prima persona alla crescita morale e civile dei giovani della nostra città, raccontando nelle scuole del territorio la storia della sua terribile prigionia. Bonomi, rinchiuso nel campo di concentramento di Mauthausen, sopravvissuto allo sterminio, ha raccontato i suoi lunghi mesi trascorsi in quel campo, nel libro Il nonno racconta la guerra e la prigionia, di Marcello Guidubaldi. Di Bonomi è stato ricordato il grande impegno di divulgazione presso le giovani generazioni, incontrando i ragazzi delle scuole e testimoniando una pagina di storia vissuta sulla sua pelle. Durante le celebrazioni è stato inoltre ricordato attraverso la deposizione di una corona presso il monumento ai caduti di Piazza Martiri. Il 73esimo anniversario dell'ecidio di Piazza Martiri è avvenuto il 4 luglio del 1944, quando le truppe naziste uccisero i partigiani Corradino Anastasi, Riccardo Travaglia, Alessandrino Busetto e Giuseppe Iacopetti.